Covid a Pesaro un quarto dei contagi rispetto ad Ancona. Regione Marche nuovi concorsi per 92 assunzioni. Per evitare crisi idriche si progetta un nuovo invaso in provincia. Cimitero centrale spunta un affitto per i loculi provvisori. Buona serata, benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è martedì 23 febbraio e in apertura parliamo della situazione relativa al Covid-19 nella nostra regione Marche. Da oggi infatti metà provincia anconetana è entrata in zona arancione per una velocità di contagi quadrupla rispetto a quella pesarese, come ci spiega il nostro primo servizio. Nelle Marche i contagi da Covid-19 stanno viaggiando a due velocità. Già perché nello specifico della provincia anconetana procedono ad una rapidità quasi quattro volte superiore a quella della provincia di Pesaro Urbino. Basti dire che sono stati 274 i casi registrati ad Ancona nelle ultime 24 ore, 69 quelli a Pesaro Urbino. Il tutto su una percentuale fra positivi e testati che si colloca ad un altrimenti accettabile 11,8 per cento. In totale sono 581 i contagi nelle ultime 24 ore nella regione Marche su 4942 nuove diagnosi per 7.316 tamponi effettuati. Non è un caso che da oggi fino a sabato 27 febbraio sia scattata la zona arancione per 20 comuni su 47 della provincia di Ancona, oltre al divieto di entrata e uscita dalla stessa provincia. 20 zone arancioni a macchia di leopardo in una regione altrimenti gialla, ma che per restare tale anche a marzo deve sperare che la provincia anconetana abbassi una velocità di contagio che nell'ultima settimana ha costantemente eguagliato i valori di tutto il resto della regione. Gli antidoti, limitazioni, precauzioni e naturalmente vaccini. Proseguono con ampia adesione le inoculazioni agli over 80, ma ancora non è possibile effettuarli sugli anziani non autosufficienti o impossibilitati a deambulare. La regione non ha comunicato ancora modalità e tempi di somministrazione, ma intanto ora c'è un numero per prenotarsi, da poter chiamare tutti i giorni feriali dalle 9 alle 18 dichiarando la propria tessera sanitaria. Dopodiché andrà dimostrato di avere un certificato medico che attesta l'impedimento agli spostamenti. Tempo di assunzioni in Regione Marche, dove sono stati banditi due concorsi per oltre 90 assunzioni a tempo indeterminato. Una bella opportunità occupazionale che ci viene illustrata in questo prossimo servizio di Daniele Sacchi. Si rinnovano le pubbliche amministrazioni e arrivano le assunzioni a tempo indeterminato. È così per la Regione Marche che ha appena bandito due nuovi concorsi per 92 posti fra assistenti e funzionari. C'è tempo fino al 16 marzo per presentare la propria candidatura esclusivamente in via telematica ad uno dei 36 posti disponibile di assistente amministrativo contabile oppure ad uno dei 56 posti di funzionario amministrativo e finanziario. Domande e modalità di concorso sono consultabili sul sito della Regione Marche all'interno dell'area amministrazione trasparente alla voce bandi di concorso. Secondo l'assessore regionale Guido Castelli, questo è solo il primo passo di un piano di rafforzamento delle pubbliche amministrazioni erose fra pensionamenti e un decennio di blocco di turnover. A breve sono previsti infatti altri concorsi per raggiungere 127 nuove professionalità all'interno dell'organico regionale. Ed ora cambiamo argomento, continuo a far discutere la messa in sicurezza delle strade delle Siligate. A giorni si conta di trovare infatti un incontro tra ANAS Comune e Regione per trovare una strada condivisa. Come ci spiega in questa intervista il consigliere regionale Nicola Baiocchi. La situazione è una situazione per ora provvisoria perché sono stato a parlare ad ANAS e da un lato mi hanno rassicurato sul fatto che l'installazione adesso che è sulle Siligate è assolutamente provvisoria, non sarà quella l'installazione definitiva. Comunque ho rappresentato la necessità e l'importanza di incontrarsi, incontrarsi tra tutte le parti coinvolte affinché si possa trovare una soluzione condivisa. Perché da un lato deve essere contemperata la sicurezza delle persone, dall'altro lato le esigenze dei residenti, quindi problemi legati alle banchine, a problemi legati di sicurezza su quella strada. Nessuno nega che quella strada ha dei problemi legati alla sicurezza. Bisogna capire adesso qual è il modo migliore per andare incontro ad entrambe le parti. In più c'è tutto il problema legato ai corridoi ambientali, al problema degli animali e alla vicinanza con il parco. Io auspico, e da questo devo dire che ho visto una buona disponibilità da parte di ANAS, a rimettersi a sedere con i soggetti coinvolti affinché si possa trovare una soluzione condivisa. Le rotatorie sono state concordate tra l'amministrazione e ANAS, ricevendo le richieste dei cittadini, dell'ente parco e del quartiere. Quindi sinceramente sono anche un po' stupito che sembra come se l'amministrazione non fosse conoscenza di questa cosa. Sono stati fatti tantissimi incontri tra le parti, uno anche un mese e mezzo fa, due mesi fa, dove ANAS ha illustrato questo progetto e ha accolto le osservazioni fatte dalle parti coinvolte in relazione alle rotatorie. Quindi si cerchi adesso subito di trovare una soluzione per uscire quanto prima da questo impasse. L'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale con il supporto di Marche Multiservizi ha individuato cinque bacini idrici del nostro territorio per realizzare un invaso che metta la provincia a riparo dal rischio di carenze di acqua potabile nel periodo estivo. Nuove contromisure per attenuare ogni rischio di crisi idrica nella nostra provincia. L'ATO, Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale, vuole cogliere al balzo le nuove occasioni di finanziamento statale proposte dalle leggi di bilancio 2018 e 2019 per realizzare un invaso di grande volumetria che soddisfi appieno i bisogni idropotabili del territorio. Va in questa direzione l'individuazione di cinque bacini idrici papabili per la realizzazione di un invaso, ora sottoposto ai pareri dei sindaci dei comuni coinvolti. È stato esposto un progetto tecnico-scientifico per la realizzazione di un invaso, un invaso di grande dimensioni, un invaso che può andare incontro ad una situazione di crisi idropotabile. Chiaramente nel territorio provinciale si è, questa ricerca ha tenuto conto di tanti fattori che selezionano e che riducono i luoghi in pochi luoghi, insomma sono cinque luoghi individuati dai tecnici e questi cinque luoghi sono stati esposti, questa ricerca è stata esposta all'Assemblea dei Sindaci. Infatti sappiamo bene che la nostra provincia purtroppo ha fonti idropotabili di superficie e cioè i fiumi, i corsi d'acqua, le sorgenti, piccoli invasi, tutte situazioni che d'inverno o comunque nelle stagioni normali non danno problemi, anzi noi abbiamo anche una bella rete idrica. Il problema avviene d'estate, d'estate queste fonti si riducono, ci sono scarse precipitazioni e dobbiamo correre al riparo. In questi ultimi anni l'ATO ha messo in programma diversi interventi che hanno permesso di reggere, di far arrivare in tutte le case l'acqua ma siamo comunque preoccupati perché l'inalzamento delle temperature, il clima che cambia, la diminuzione di precipitazioni che abbiamo, che stiamo assistendo in questi anni ci stanno preoccupando. Fra i cinque siti individuati la prima scelta sono le fonti del Candigliano tra Mercatello sul Metauro e Dapecchio. Nello studio, commissionato anche attraverso il lavoro dei tecnici di Marche Multiservizi, le alternative sono il torrente Morsina, il Certano che scorre a Pianello di Cagli, Valle dell'Eremo a Piobbico e il torrente Apsa tra i comuni di Peglio, Sasso Corvaro e Urbino. Ci siamo messi a disposizione dell'autorità di ambito ottimale supportando con questo studio fatto dal geologo Farina e Ceccarini per dare uno strumento in più di pianificazione all'ambito ottimale ai sindaci del nostro territorio perché come noi tutti sappiamo chi poi gestisce i servizi sul territorio, il territorio preleva principalmente acque superficiali per l'80% quindi la carenza idrica soprattutto nei mesi estivi incide sulla qualità dell'ambiente ma anche sulla vita dei cittadini prevalentemente nelle aree interne. Creare degli scenari di sviluppo, in questo caso anche la pianificazione perché poi non saranno opere nel breve e medio termine ma nel lungo termine significa interpretare anche questi nuovi modelli legati ai cambiamenti climatici. Un invaso con accumulo di acqua darebbe un'autonomia e una capacità di risposta alle esigenze del sistema idrico e soprattutto rilancierebbe alcuni territori nelle aree interne non solo da un punto di vista ambientale ma anche della qualità dei servizi. Giovedì 25 febbraio Marche Multiservizi effettuerà lavori di collegamento della nuova condotta posata in via Ciro Menotti a Pesaro. L'intervento comporterà un'interruzione dell'erogazione dell'acqua giovedì dalle 9 alle 12.30 in via Rosati, via Geminiani, via Gili, via Terenzi e nella stessa via Menotti. Per altri lavori di manutenzione è prevista un'analoga interruzione del servizio dalle 14 alle 18 in via Bembo e in via Boiardo. Nella zona centromare di Pesaro è stata una giornata di operazioni di carotatura per la sostituzione di oltre 140 piante. Da domani si effettuerà la nuova piantumazione. Lavori in corso anche sul San Bartolo dove la regione sta provvedendo ai lavori di messa in sicurezza della strada panoramica e della falesia sotto il centro abitato di Casteldimezzo. Bandiere a mezzasta oggi nel palazzo del comune di Pesaro una manifestazione di lutto per la brutale uccisione in Congo dell'ambasciatore Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell'autista Mustafa Milambo. Il perdurare delle limitazioni della pandemia ha portato oggi ad annullare l'edizione del Pesaro Wine Festival prevista a Villa Cattani Stewart nel mese di aprile. L'organizzazione confida di recuperare l'evento entro la fine del 2021. E prosegue la settimana rossiniana in versione digitale trasmessa da Rossini TV. Domani infatti mercoledì 24 febbraio alle ore 19 la Fondazione Rossini propone dai musei civici il documentario sulla nobile donna Maria Malvezzi Ercolani, personaggio influente nella vita di Gioachino Rossini. Ed ora spazio alle vostre segnalazioni. Oggi infatti abbiamo raccolto la testimonianza di Laura, una nostra telespettatrice che ci segnala una particolare situazione al cimitero centrale. Vediamo. Nel 2021 perdere un proprio caro e decidere di seppellirlo al cimitero centrale di Pesaro comporta la tumulazione in un loculo provvisorio e con un canone d'affitto. E quanto ha scoperto Laura, donna pesarese che ha segnalato a Rossini TV la sorpresa poco gradita dopo la scomparsa del marito. Mio marito è deceduto l'11 a Fano, deceduto di malattia. Il 14 è venuta la tumulazione a Pesaro, ha pagato quello che c'era da pagare per la tumulazione e dice lo mettiamo provvisorio perché ancora i loculi non sono finiti, i loculi nuovi. Ed è in un posto dove generalmente mettono gli obesi. Ma comunque lì era vuoto, c'era il posto vuoto. Stavo leggendo ieri mattina che adesso il comune, finché i loculi, il reparto nuovo non è finito, vogliono l'affitto. 33 centesimi al giorno. Non è la cifra per carità, ma è una cosa vergognosa. Me l'hai messo te lì perché non c'era il posto. Io dopo devo pagare l'altra tumulazione quando me la toglieranno e sono d'accordo. Poi devo pagare il loculo e adesso mi fanno pagare l'affitto. Fino all'attesa del nuovo reparto che fanno, le salme che sono state messe in loculi provvisori dovranno pagare l'affitto. Mi sembra una cosa ridicola. Luca Pieri, presidente di Aspes S.p.A. che gestisce i servizi cimiteriali, spiega i motivi di questa situazione. A livello del cimitero centrale stanno proseguendo di gran lena i lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione e proprio nel giro di poche settimane dovremmo riuscire a terminare tutto il lavoro che purtroppo ha avuto un rallentamento sulla Covid in quanto nello scorso anno nel periodo di lockdown totale non si è potuto per tre mesi lavorare. Detto questo si sta già provvedendo a tumulazioni in loculi di tipo provvisorio che sono messi a disposizione degli utenti nel quale si volga, volessero scegliere di aspettare la realizzazione dei loculi definitivi, altrimenti i cittadini possono scegliere di fare tumulazioni, tumulare i loro cari anche nei cimiteri di Pesaro che hanno disponibilità di loculi. Detto questo è comunque una spesa che comporta le operazioni normalmente che si aggira attorno ai 293 euro comprensivo di IVA che è tutto il costo delle operazioni cimiteriali per quanto riguarda la tumulazione e poi l'estumulazione per essere ritumulato nell'oculo nuovo e c'è anche un canone di affitto minimo di 33 centesimi al giorno che rappresentano il canone di concessione per l'occupazione provvisore dell'oculo. Come sapete le concessioni sono 35 annali e in caso in cui le famiglie decidessero di tumulare in via provvisoria il loro caro in un loculo provvisore per poi poterlo spostare c'è questo minimo di canone che equivale alla cifra che si paga per la quota di concessione 35 annale. Quindi noi applichiamo come Aspes le tariffe e i regolamenti che vengono decisi dal Consiglio Comunale e questo stiamo facendo anche sul cimiterio centrale di Pesaro. Da qualche giorno Piazza del Popolo si è arricchita di un'installazione artistica in ghiaccio dedicata al settecentesimo anniversario della scomparsa di Dante Alighieri. E allora vediamo le interviste di Antonio Astuti. L'inferno di Dante come si sa che inizia con una selva oscura e termina a rivedere le stelle e anzi la parola stelle è quella che ricorre come sappiamo come ultima parola di tutte e tre le cantiche. In realtà contiene non solo fuoco come nell'immaginario collettivo per noi ecco è sempre l'inferno ma contiene molti altri elementi pece bollente tra cui anche il ghiaccio quindi qui siamo in un chiaramente anche se il riferimento è al primo e all'ultimo canto però sicuramente il ghiaccio è un elemento in cui sono conficcati anzi dei personaggi estremamente dei grandi peccatori dell'inferno. Quello di Dante è un viaggio sicuramente simbolico verso una speranza di liberazione di verità di ascensione di purificazione di sé del sé di un uomo che sì ci ha lasciato 700 anni fa ma che penso continui a rivivere con la sua verità col suo dolore anche con la sua intelligenza e con la sua assoluta straordinaria capacità fantastica in ognuno di noi ecco di lui abbiamo sempre bisogno come dei grandi classici. Abbiamo interpretato due scene una scena che è questa qui dove c'è Beatrice e una donna in carriera o comunque sia simboleggiare le donne nel loro lavoro a imbracciare un bambino verso le stelle e Dante lo stesso a identificare le stelle. Alle mie spalle abbiamo la selva oscura dove Dante incontra le tre fiere la cui il primo è il giaguaro che rappresenta la lussuria e si incammina poi dopo verso l'inferno. È un anno importante, un anno dantesco, importante per il nostro territorio, importante perché abbiamo Gradara, perché abbiamo Fontavellana, abbiamo Firenzola di Focara, abbiamo tanti luoghi di racconto dantesco e anche perché è un anno importante per l'Italia e per la promozione dell'Italia nel mondo anche se questa appunto sarà un po' condizionata dalla pandemia. Però appunto ci piace che questi elementi e l'anno dantesco entrino a far parte anche di questa lunga corsa invece per la capitale italiana 2024 che non sarà una sfida solamente pesarese, sarà quanto meno di tutta la provincia. Nelle prossime settimane inizieremo a coinvolgere tutti i comuni della provincia, tutti i 92 comuni, anche tutti gli artisti, ma anche tutti gli operatori culturali, tutti i creativi che lavorano attorno al mondo della cultura, nei sette cluster della gastronomia che abbiamo, della cultura che abbiamo individuato, dalla gastronomia, al design, all'artisanato, al cinema, alla letteratura, alle media arts, alla musica ovviamente stessa e quindi sarà un viaggio non come quello dantesco, magari meno lungo, meno articolato, ma sicuramente affascinante per appunto raccontare sia quello che è il nostro patrimonio culturale, ma soprattutto come in queste competizioni quello che vogliamo diventare, cioè dove si vuole portare il nostro territorio provinciale dal punto di vista anche delle opportunità lavorative, che è la cultura, la creatività possono generare, quindi tutti i momenti sono importanti, anche un momento di creatività attorno alla lavorazione del ghiaccio come questa, con due giovani artisti e scultori, è un segnale che va in quella direzione. E questa era l'ultima notizia, andiamo a raccontarvi quella che sarà la prima serata di Rossini TV, infatti come ho anticipato questa mattina nella rassegna stampa, a partire da questa sera e per diversi martedì, alle ore 21.15 vi faremo rivedere un programma che abbiamo registrato nel 2019, quando si poteva, con tanti bambini in studio presso gli studi di Rossini TV, che si sono cimentati nella creazione di opere artistiche con materiale di recupero attraverso l'aiuto e il supporto degli animatori di Pesaro Village, quindi guardate questo programma perché è davvero molto molto simpatico per tutti i bambini. E poi vi ricordiamo che domani torna una nuova puntata di Casa Rossini, alle ore 10 saremo in diretta, in replica poi alle 16 e alle 22. Gli ospiti di domani saranno Fabio Masini, che è il direttore del Conservatorio Rossini, poi ritorna con molto piacere Roberto Bartolini, ideatore dell'assetment grafologico, domani tra l'altro analizzerà alcuni vostri scritti che ci avete inviato al numero di WhatsApp che state vedendo appunto di Casa Rossini e leggerà la vostra personalità attraverso i vostri scritti. E poi abbiamo Raffaella Manieri che è responsabile, Raffa Manieri Academy. E poi ecco qui siamo nella settimana del non compleanno di Gioachino Rossini, come sapete Rossini TV collabora strettamente a queste iniziative che andranno avanti fino al 28 febbraio e allora il prossimo appuntamento è proprio domani 24 febbraio alle ore 19 con uno alla volta per carità storie di personaggi alla corte di Rossini. Non perdetevi anche questo divertente appuntamento. E non perdetevi neanche la rassegna stampa di domani mattina, vi aspetto alle 7.20 puntuali in diretta, sia sul canale 633 che sulla nostra pagina Facebook. Buona serata. Buona serata.